... Incidente domestico questa mattina in via Bistagno, Torino. Una donna di circa 80 anni, mentre stava facendo pulizia, è caduta a terra per un malore. Il marito ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, la croce verde e la polizia. Portata sul pieno rottolo è andata più volte in arresto cardiaco. Inutili i ripetuti tentativi di rianimarla. La donna è purtroppo deceduta. Accertamenti in corso sulle cause del malore. La donna è purtroppo deceduta. La donna è purtroppo deceduta.